presentiamo la Winter School Video Content Strategist idea di produrre e distribuire format per le piattaforme digitali che è una Winter School ideata da Almed insieme con Telecom Italia, Web Comunicare e Bonsai TV IAM 11 2003 che si propone di formare la figura del Video Content Strategist una figura professionale che possa non soltanto occuparsi della produzione del format ma anche della sua ideazione, quindi tutte le fasi di ideazione e preproduzione realizzazione dell'edit girato, quindi poi anche la fase di montaggio e infine anche la fase di comunicazione sul web il percorso formativo di questa Winter School dura una settimana ed è un percorso molto intensivo la giornata di tipo inizia verso le 9 e prosegue poi fino al 18 con un ritmo molto serrato proprio perché in collaborazione con i docenti e poi con i professionisti che intervengono si tratta di ottenere ogni giorno dei risultati che portino poi alla fine a realizzare questa puntata a zero siamo appunto cercando di focalizzare la tematica di questa Winter School che è giunta alla quarta edizione sull'ambiente proprio anche grazie al legame con Telecom Italia vuoi comunicare l'idea è quella di centrare il format sulla tematica ambientale la Winter School si svolgerà in Università Cattolica e in parte anche presso gli studi di Bonsai TV dal 2 al 9 marzo 2012 le iscrizioni scadono il 24 febbraio iscriversi alla Winter School può essere una buona occasione per fare un percorso formativo intenso, breve ma che dà una forte profilazione professionale lo consente anche magari di esplorare interessi che sono stati coltivati negli anni e che possono poi essere rivisti in chiave professionale i format realizzati nelle precedenti edizioni hanno anche dato luogo ad una serie in particolar modo quella della seconda e della terza serie il primo cameraman e poi curriculum verde che è stato poi realizzato e messo in onda su Uago e Comunicare lo stesso se sarà possibile succederà per il format realizzato durante la Winter School di quest'anno sicuramente la puntata 0 verrà appunto trasmessa su Uago e Comunicare e se sarà possibile anche realizzare il format anche quello verrà trasmesso appunto su Uago e Comunicare Grazie a tutti